Buon pomeriggio, buona giornata, grazie per avermi risposto e faccio questi video. Si vede che c'è guatiato questo dalle mie vicinanze, ok Nello, spero che mi stai ascoltando bene perché sto trasmettendo con un dipolo di fortuna, un dipolo così buttato sul terrazzo dato che c'avevo il dipolo rigido che purtroppo la bobbina si è bruciata e sto trovando questo il dipolo può essere messo sul terrazzo proprio a mezzo mezzo dal terrazzo, cioè troppo troppo basso, ok Nello, il 73 è la buona giornata, i 3, Germania, Tosanio, Italia, Tango 9, e i colleghi in America, ti ascolto e poi da parte mia QSG, ciao Nello e grazie.